Buongiorno e buonasera ragazzi e ragazze, io sono Tinto93 e oggi giochiamo a Roblox Piggy. Nello scorso episodio di Piggy siamo scappati dal carnevale e io ho comprato la grandmother. Tengo Kitty che è molto bello, lo posso equipare però, qua ci sono gli altri, io voglio il torture, la torcia, io voglio la torcia. Adesso mi equipo Kitty, mi sono equipato Kitty, voglio provare un round con Kitty, se mi piace la tengo, se non mi piace mi rimetto il poliziotto. Siamo nella scuola e non vedo Piggy, cosa molto bella, c'è una trappola a teletrasporto. Non ho capito cosa ha detto, perché non parlo inglese. Scappa, 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 c'è Roby, scappa. Decirecare la carota per banni, banni il bagnetto. Dove, 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 qua ho messo pure un'altra. Sono uscito dalla scuola, questo è Mr. Potato. Looks like you. Non so cosa sta dicendo. C'è Roby là. Tu sei scappato. Devono andare in ospedale, io sto male, tipo, non lo so. Oh, finito così. Comunque Roby è bruttissimo, come Piggy. Ma che sto facendo a banni? Ma, là c'è qualcuno, non mi ha impressione. Non c'è più nessuno, non è là, ah no. Eh, ma scappa almeno. Che state facendo? Scappate, la porta è aperta. Scappate, la porta è aperta. Ma volete scappare? Voi siete scemi? La, 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 la. Eh, vabbè. Ma volete scappare? Questo che cacchio è? Se mi stanno i condotti o se è buggato il gioco per lei? Ma scappa, la porta è aperta. È aperta. Aperta. oh ma ce la fai non ho ancora capito che la porta è aperta che è successo? sicuramente esco io come Viggy comunque Kitty un po' ce l'ha di vantaggio a Poli perché è più veloce perché è un gatto è più veloce quando ha uno jumpscare più pauroso io devo ancora finire il carnevale l'ho finito quattro volte no siti no è tutto tranne siti potete mettere tutto tranne siti ah moon voglio provare infection perché non lo uso quasi mai non l'ho mai provato in vita mia infection solamente che è molto strambo comunque io ho iniziato a seguire Lion e mi sono comprato pure le storie del mistero che mi arrivano oggi e non sono io gli scrivo pure no ah no kill kill me please così almeno usiamo la skin vediamo un po' di chiavette oh ho già trovato la plank buonissima montata kill me please chi è che si farebbe dire kill me please in un round di piggy chi è lo direbbe chi è quale è il pazzoide dobbiamo andare ad aprire tu sei scemo no a me no a me no a me no a me no comunque è brutto Kitty non è che va più veloce è un è un piggo è un maiale pur sempre un maiale questo che fa è brutto io come piggo sto un po' scasteggiando la forza prima ero un una cosa che oh ma ci sono passato attraverso ma ma mi è venuta addosso mi è venuta addosso ma per chi pure tu poi quando ti prende fa ok chi manca sono tutti i piggy nemmeno un io sono il più bello tra i piggy io ascoltare il mio suono molto bello molto pauroso mi sbagliavo Kitty è molto bello però poi mi riequipio polei dove è finito quell'altro tizio dove è finito l'ultimo sentite ah vabbè io direi di equipare polei oh no oh no è una maledizione questa cosa che non riesco ad andare avanti no 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 voglio non No vado a casa che ho visto che ho visto che ho visto facciamo che io una volta sono il traditore no, e non lo sono io è tutto rotto sto gioco ci sono i mostri qua e non sono non lo so, non sono nostri amici ah, che poi lui viene Mr. Potato gli dà la pozione e si trasforma in un coso brutto e si trasforma in un coso brutto doggy no, non mi riesco a muovere tutto il gioco è tutto bugato sto gioco ma c'è una boccetta doggy io voglio lontani da doggy sarebbe una scelta saggia qua scrapper qua è scipi è scipi dov'è scipi dov'è quella scipi scipi si la conosce la scipi prendiamoci no, vediamo pure se c'è qua una una serratura eh no ma io non trovo scipi ma come non c'è bisogno di questo è già stato stoppato allora era proprio un hub il traditore ormai ogni mappa di roblox sapete già che io porto sempre piggy poi nella tinto craft il prossimo episodio lo faremo sulla piscina io costruirò una piscina siamo sempre mull 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 è il più bello che io non ho ancora finito no si spegni il telefono no mull è stato scelto diventiamo infection perché mi piace infection ci sono maiali quindi è bello è bello non spammate i player vi prego sicuramente muo esco io quando ci scommettete no no sono io sono pure no no don't 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 kill me please don't don't kill me please io ho scritto in inglese con il resto perché io non so parlare inglese anzi sono una mezza pippa al sugo ok grazie mille grazie il piggy è il mio amico oggi si e però l'erbetta io non la voglio prendere per il fatto che poi se la do alla zebra lui si arrabbia e mi venne da uccidere non prendete quell'erbetta ecco che l'hanno presa oh no non ti rompere eh ma ma non sa nemmeno chi sono eh ma non sa nemmeno io chi sono scimo era una bugia oh dio oh mio dio che what happened apriamo tutto 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 voglio aprire tutto oh dio no io non ho fatto nulla sono tutti rotti è bruttissimo infection volevo dire non mi piace per nulla non mi piace per nulla ecco che ci viene incontro robbie run run no run run I'm coming for you che è il topo è là guardate quanto sono p sono p l'ho detto che sono p e sono p andate da loro andate da loro io ho cose più importanti da fare ecco fate schifo ecco manco solo io alla lista degli invitati alla festa mettiamoci qua no non posso ho dato l'allarme qui non c'è nessuno vero piggy però lì c'è la nonna mi avevi detto che non mi uccidevi dai fai schifo beh ciao ragazzi grazie a tutti Grazie a tutti.